Sei obbligato a fermare il tuo magazzino per l'inventario? Diciamolo meglio, non sei obbligato a fermare il tuo magazzino per l'inventario. Possibile? Certo, basta eliminarlo con Gulliver. Gulliver, il più innovativo software per la logistica, gestisce le attività del tuo magazzino e mentre lo fa, controlla in tempo reale le giacenze disponibili. Così verifichi subito stoccaggi e prelievi e ottimizzi le tue risorse, senza aspettare fine anno. Eh sì, la tua azienda si sente più leggera ora senza questo peso o questo vuoto. È davvero il caso di dirlo. Chi non fa l'inventario ci guadagna, con Gulliver ovviamente. Scopri gli innovativi vantaggi di Gulliver, guarda gli altri video.